Se si può essere indignati due volte, io dico che sono indignato due volte. La prima cosa di per sé è aver sentito queste cose nelle intercettazioni, io non ho letto tutte le intercettazioni, ho letto quelle della stampa, beh sono agghiaccianti e sono indignato già di per sé. La seconda cosa è proprio perché l'indignazione ti viene perché viene a colpire il fiore all'occhiello che noi tutti abbiamo detto, la protezione civile. Perché la protezione civile non è per tolaso, è migliaia e migliaia di cittadini, volontari, eccetera. Ecco il perché della doppia indignazione. Però io dico subito, guardi lei prima citava che Tangentopoli non ha insegnato nulla. No, 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 ha insegnato. Ha insegnato perché da Tangentopoli, beh insomma, adesso se si vogliono fare i sporchi come stanno venendo fuori, poi la magistratura andrà fino in fondo. Sì, sì, sì. Ha insegnato ad esempio, primo, ad attaccare le intercettazioni. Nel nostro paese si è cominciato a parlare di attaccare le intercettazioni, sono troppe, costano troppo, ma che scherziare? Sono quelle che devono essere. Seconda cosa, delegitimare la magistratura. Ma meno male, meno male che si vanno ancora le intercettazioni e meno male che c'è una magistratura che ha la schiena diritta rispetto a queste questioni. Questo ha insegnato Tangentopoli. Allora noi invece dobbiamo riprendere in mano... Si ha un po' la tendenza a parlare di uscita da Tangentopoli più come eliminazione di ingerenza della magistratura nella politica più che come moralizzazione della politica? Questo ha insegnato, esatto. Invece bisogna moralizzare. Quello avrebbe dovuto essere l'insegnamento. Detto ciò, beh hanno ragione. Prima veniva accennata, più che accennata, dovrebbe essere sottolineata con la matita rossa, quel comma allucinante della legge del 2001 che estende in tre righe, in tre righe estende i compiti della protezione civile sacrosanti, quelli di intervenire sulle alluvioni, quello di intervenire sui terremoti, le estende a, non lo so io, a grandi eventi. Ma sono i cori... No, le leggo perché me ne erano segnate alcune. Lo leggo, lo leggo. Riesumazione di Padre Pio, gondole di Venezia, rotonde per i mondiali di ciclismo di Varese, taglio delle siepi e trasporto delle statue per il vertice nato, Russia, pratica di mare. Stiamo scherzando. Pratica di mare fu un grande successo. Sì, ho capito. Sì, no, però la protezione civile davvero si deve occupare di questo? Beh, se ne è occupata è affatto bene. No, no, aspetti, ma io non ho finito perché io voglio andare fino in fondo dicendo che quindi sono quelle le questioni, oltre alle questioni verifiche, controlli, che dicevo prima per evitare ancora tangentopoli, sono quelle le questioni a cui bisogna mettere mano. Quindi di nuovo splittare, separare le cose. E se non lo si fa per legge, io qui lo dico in questa trasmissione, con tutta la difficoltà e la complessità della questione, però io vado avanti e sono anche per fare referendum abrogative su quel comma. o si va a una legge dove si dividono di nuovo le cose, oppure io sono per una raccolta di firme per abrogare quel comma allucinante. Vabbè, qui invece si discute più che altro del decreto per trasformarle in società per azioni. dopo ne parla.